Ciao a tutti, sono Detendosi, gioco con Mi Hero One Justice, adesso noi facciamo le partite classificate. Oggi, questo è un po' sul serio, dai, facciamo un po' con Todoroki, facciamo un po' più serio. 1100, chi è? Tu, Raka! Faccio un gombello, voglio vincere quasi tutte, dai. Sto concentrando un po', almeno. Concentro un po', fanculo. Questa è un po' conoscenza. Grazie a tutti Oh, prima portata vittoria Porca puttana Sbagliato Cos'è la suprema da 2? Sì Sbagliato Sbagliato Eh, brucia Oddio mio Oddio mio Vaffanculo Ah, piene culo, pia vittoria Fammi concentrare un po' con Todoroki, Dio mio Chirona Sbagliato 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 Vabbè Vabbè Vi metterlo in superero Oddio Che cavolo Che cavolo Che cavolo Che cavolo Che cavolo Che cavolo Lo vado Che cavolo Che cavolo Grazie a tutti. 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 a tutti. ti arrendi subito. a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. 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 grazie a tutti. 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 grazie a tutti. a tutti. una merda una merda una merda una merda una merda una merda es una merda es una merda es una merda subito es un minuto niente, è più forte come fa nei voti piove troppo tanto niente posso volare 8 W vedi quanto cazzo vincolo combatti il problema ci fermiamo se vi è piaciuto il video sui like e sui like e iscriveteci al prossimo video ciao 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 ciao